E ora la cronaca, un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Flaminia Cucurano di Fano. Il sinistro è avvenuto tra un auto e un ciclista di Fossombrone. Quest'ultimo ha impattato l'auto che lo precedeva e ha riportato alcune ferite. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il conducente dell'auto non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha trasportato il ciclista in codice giallo all'ospedale di Fano e la polizia locale che ha lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.